amici mi ascolto un cordiale buongiorno cos'è che è caduto dall'altra parte dio davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere ma chi è che fa che il cazzo del rumore li perché chi è che c'era la porta dio cane aspetta che me calma perché ma che oh no ma è sopra evidentemente ma cos'è sto telefono porco dio se pensi stia segnalando gli spostamenti delle truppe è via libera decidi tu passo no no magari sta soltanto chiamando la moglie ah non lo so io chiudi quella porta lì per favore va la chiudi quella porta chiudi quella porta di qui dai dios ma porco dio aspetta che mi fermo un attimo e aspetta che mi fanno un secondo è cosa che cazzo che è qua sotto orco dio orco dio una donna è un ragazzino eh bacione andiamo in campo lungo negativo decidi tu andiamo in campo lungo qui dai vaffanculo ti fanno la pelle se ti sbagli no madonna puttina io cane di dio grazie a tutti Grazie a tutti.